Il pubblico è sempre il vero eroe, i ragazzi sono stati fantastici, c'è stata una risposta che non ci aspettavamo Siamo noi che ringraziamo voi, siamo lusingati I tori spingono nei live soprattutto, li vediamo Poi la canzone è andata anche virale su TikTok, quindi siamo stati fortunati È stata un'altra bella estate Ogni canzone gli creiamo insomma un micromondo per riuscire a incanalarla insomma nelle varie uscite che facciamo E poi se diventa una hit ben venga, però ne facciamo tutto quello che possiamo fare per far sì che lo diventi Il Molise, poi tutti si sprecano in battute eccetera da Molise Però in realtà ogni volta che veniamo qua c'è sempre un moto di gente Ma non solo nella quantità, anche nella qualità, soprattutto nella qualità Io so già che adesso siamo stanchissimi perché sono tre mesi che siamo in giro senza pause Però quando finirà poi, so già che avrò una nostalgia infinita di questo momento